Oggi sigliamo questa importantissima convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco dove la provincia di Teramo ha voluto fortemente con la figura del Presidente di Bonaventura e nella mia persona come Delegato alla Protezione Civile quale convenzione? Quella del salvamento sulla costa teramana che coinvolgerà i sette comuni e le sette sorelle della costa quindi da Martinsicuro a Silvi. Questo per una maggiore tutela per i bagnanti, per i turisti e per i cittadini della provincia di Teramo perché abbiamo dei pezzi di spiaggia non protetti quindi non salvaguardati dai bagnini e quindi questa è una maggiore sicurezza che un corpo dello Stato quindi appunto questa convenzione la provincia di Teramo ha voluto fare. Io ringrazio il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ringrazio la Prefettura e ringrazio tutti i comuni coinvolti. Avremo quest'anno due postazioni, una a Roseto degli Abruzzi e una nel comune di Tortoreto. Saranno 16 giornate, sono intervallate nei weekend quindi una volta sabato stanno a Tortoreto, domenica a Roseto e viceversa in queste giornate fino al mese di settembre.